Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi andrò a registrare un video che mi è stato suggerito nelle storie Quindi passate dal mio Instagram perchè oggi ce ne sarà una uguale, quindi vi aspetto su Instagram Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E mi raccomando superiamo i 100 like per questo video, per far continuare la serie, se li supera Direi che si potrebbe continuare, quindi mettete like, anche perchè avrete modo di interagire con questa serie Quindi direi di non perdere altro tempo e via con il video Come detto dalla finestrella qui in basso, mi è stato chiesto di parlare di trovare gli spot su Maps Come tutti durante il lockdown o comunque magari chi è stato anche in quarantena abbiamo imparato a girare su Maps Questo periodo più che mai è molto utile anche perchè la benzina costa, quindi ci permette di girare E soprattutto a me che ho fatto varie gare quest'anno su posti che non ho mai provato, mai visto È tornato molto utile per farmi anche un po' delle idee Dato che non posso fare un video di un'ora per spiegare tutto perchè ci sarebbe il mondo da dire Per il mare dipende molto dalle zone perchè dipende sia dal mare sia dai pesci che andiamo a cercare Maps arriva fino a un certo punto perchè dopo mette un'immagine, cioè mette un po' di colore così con delle finte ondine Che adesso vi faccio vedere, cioè nel senso, il mare si può vedere delle isole e roba Però vediamo fino a un certo punto di costa e dopo ci mette un po' di sfumatura così Cioè ci può aiutare fino a un certo punto, sicuramente Invece quanto riguarda le acque interne, fiumi, canali, fossi, laghi Ci torna molto utile, che tra poco andremo a parlare Intanto bisognerebbe capire la specie da cercare Perchè comunque ogni specie ha le sue abitudini In base alla stagione, ha le sue abitudini di caccia Quindi là se dovete cercare una specie a un certo posto dovete documentarvi su cosa fa Quello non posso mettere tutto in un video perchè parlare di 20 tipi di pesce e fare il video sarebbe troppo lungo Quindi parlerò molto in generale, parliamo più che altro dell'acqua interna Però sono trucchi che possono servire anche in mare Abbiamo qua il nostro bello Google Maps Allora avevo trovato un lago Ho girato in giro per Maps Ho detto troviamo un lago, un lago, un lago Che più o meno possa avere tutti i requisiti Intanto, allora intanto vado a zoomare Ne ho preso una a caso ragazzi Non so che lago sia, non so cosa ci sia dentro Giusto per fare un esempio più pari possibile Che così non l'ho visto, non lo conosco, non so niente Proprio come uno che va a cercare degli spot Prima cosa che si va a cercare I pesci stanno in questi punti Rifugi naturali Quindi alberi in acqua Canneti Comunque rocce Posti del genere Fugi artificiali Ponti, banchine Cementate Tutte quelle cose fatte dall'uomo Scalini Quindi cercare anche qualcosa che vada giù abbastanza velocemente Punte Abbiamo erbai quelli Sott'acqua Varie strutture subacquee che alcune si potrebbero vedere Altre no Possiamo parlare anche di zone Piccole anse Zone comunque dove la corrente batte meno O anche Proprio la linea di corrente Nell'eventualità di Stagionalità Stagionalità possiamo passare anche sulle acque basse Quindi andiamo un attimo a cercare Ho trovato questo lago completamente a caso Di solito Con Maps Prendi Questa è la casa mia Vediamo di qua non c'è niente Di qua non c'è niente Oh qua c'è un lago Impressionante Più o meno come svolgo io la ricerca Quando devo andare a caso E provare posti nuovi Anche perché Maps È molto meno costosa la benzina Sono abbastanza sicuro Allora c'è questo bel lago Che non so neanche in che regione sia Abbiamo tutto quindi Diga artificiale Ponte 1 Una strada Vabbè Erbai Erbai superficiali e sott'acqua Abbiamo varie anse Ansette E più o meno profonde Possiamo vedere anche delle profondità E Ponte Vabbè Sempre erbai Qualche rocciata Perché possiamo vedere Anche qua Qualche bella rocciata E discesa veloce E Dopo cos'è che altro Avevo visto Su sto lago Abbiamo comunque La parte centrale Un pochino più profonda E comunque È un lago Molto Di acqua pulita Che ci aiuta molto E Che ha molte C'è Molto diverso Abbiamo qua Come si vede bene Che l'acqua qua è poco profonda Qua abbiamo una zona d'acqua più profonda Insieme a questo Quindi ci aiuta Io lo usavo Principalmente per le gare Per cercare Di capire intanto Come ha fatto il campo gara Seconda cosa Come Come ha fatto il fondale Che può essere molto utile Terza cosa Cercare eventuali Posti Cioè nel senso Magari Una banchina Qualche barca Qualcosa Che Cioè qualche struttura artificiale È tipo Tipo questo ponte Sicuramente Dei pesci andranno a nascondersi Comunque intorno al ponte Perché Crea ombra E crea anche struttura So di sé Abbiamo Bene Abbiamo anche beccato La stagione La stagione delle secche Qua su maps Allora altra cosa importante Che ci aiuta Con maps È la street view Che ci dà Modo di vedere Praticamente Come se fossimo lì Il lago O L'eventuale fiume Dopo proveremo a fare Anche con un fiume Cercherò uno a caso Allora Adesso qua È anche abbastanza secco L'acqua Può arrivare Anche più o meno qua Cioè Qua sicuro Però Vedo anche che Qua è ben delimitato Comunque Ha una riva Che scende Abbastanza lentamente Per quanto possa essere lentamente Con comunque Un fondo roccioso Quindi magari D'estate Un pesce si può nascondere Qua in mezzo Quindi bisogna Pensare che ci siano Anche delle rocce Pescare in mezzo alle rocce C'è questa bella punta Ad esempio Che i pesci potrebbero O stare qui O stare qui Quando c'è acqua alta Abbiamo un bello scalino qua Che quando ci sono Queste acque basse qua Tipo nei laghi Può aiutare Perché vedi Molta parte del fondo Che normalmente Sta in acqua E puoi vedere come scende Tipo questo punto qua Con l'acqua alta Sarebbe top Perché Se tu peschi Più o meno Da qua O da qua In centro Centro al lago Inteso E lanci Questo sicuramente O anche qua Sarà un buon punto Dove si potrebbero ricevere Degli attacchi Poi dipende Tipo vai a cercare il perca Probabilmente qua Sul punto più profondo O Sull'altra sponda Se cerchi Magari un bus Luccio Un reale Può capitare anche il perca Però Molto possibile Che ce ne siano qua E qua comunque c'è il ponte Che sicuramente È un ottimo riferimento Un ponte Di solito È uno dei posti più gettonati Dei pesci Possiamo vedere inoltre Come dicevo prima Degli erbai Aspetta Proviamo a fare una cosa del genere Allora Gli alberi sono più o meno qua Non so se sono tipo Questi alberi qua Che sono sommersi E quindi Sono alberi che stanno vivi Però sommersi E vedi la chioma Che potrebbero essere Un buona fonte di rifugio Per i pesci Quindi Ottimo Da battere in mezzo O altro Qua non ci offre Grande visibilità Sfortunatamente Eccolo là Salve Operatore della team Tutto a posto? Tutto bene oggi? Fa caldo? Sì sì Fa caldo direi Allora Quando è stata? Tra l'altro Cosa importante Dal computer Potete vedere qua sotto in basso La data Di cui è stata fatta questa immagine Quindi Può darci un riferimento Su quanto È recente L'immagine Quindi Magari Se è di 5 anni fa Potrebbe essere abbastanza diversa Magari se è dell'anno scorso Potrebbe essere attendibile Poi ogni anno Può cambiare completamente Anche Va bene Allora Qua possiamo vedere Della bella vegetazione Dei belli erbai Inoltre vediamo Una zona d'acqua bassa Che è questa macchia marrone E poi subito Un bel drop Una bella discesa Che quindi Sia qua in mezzo Gli erbai Che Sullo scalino Potrebbe essere interessante Altri erbai Molto interessanti Molto compatti Che arrivano Che arrivano fino in superficie Poi comunque Qua da maps Possiamo vedere Questa bella foresta Che vengono sommersi Da quando Arriva a livello pieno Quindi è un lago Che comunque Sicuramente Ha molti Alti e bassi Come livello Dell'acqua Però Sono da tenere conto Perché i pesci Quando l'acqua si alza Vanno a mettersi Tra gli alberi Anche i perca Magari Su questa zona Che è un pochino Più profonda Lo vediamo qua Dall'acqua Un pochino più scura Magari Pescare A bordo Di questi alberi O pescare Proprio quasi Praticamente In mezzo A texas Potrebbe essere Una buona soluzione Troviamo Questa punta Qua Che Ha un bello scalino qua Qua una zona D'acqua bassa Dove si possono vedere Degli erbai Se si fa così Ecco Questo è un erbaio Questo è un erbaio Bello grande E Ci sono comunque I nostri amici alberelli Che comunque Fanno da rifugio I pesci Quindi Sono sempre Ottimi punti Da provare Qua abbiamo una diga Io lo sto facendo a caso Eh ragazzi Potrebbe non esserci Un pesce qua dentro Sto facendo giusto Per Scopo Illustrativo Qua comunque C'è tutta la scalinata E Parte artificiale E qua abbiamo Sembrerebbe Della roccia Si Quindi qua abbiamo Una parte rocciosa Mentre di qua Già qua Abbiamo la parte sabbiosa Cioè Roccia Sabbia Quindi Anche la parte rocciosa Non è da sottovalutare Anche perché Come vedete Scende molto velocemente Cioè Qua Sarà un metro d'acqua Qua saranno già Due barra tre Vediamo un altro alberello Qua abbiamo una bella puntina Che però Nasconde questo Questo è un bello scalino Che può tornare utile Adesso Passiamo Abbiamo visto il lago Ok Mettiamo caso Che io abiti Qua Ecco Metto un punto a caso Un modo comodo Per trovare Dei punti Vabbè C'ho il film E tevere qua di fianco Non l'ho neanche fatto apposta Modo Furbo È utilizzare questa visione qua Che ci mostra Anche dei punti d'acqua Dico Non so C'è questo laghetto C'è un laghetto qua Una cava così Beccato una cava Non è privata Mannaggia È di un'abitazione privata Complimenti al signorino Che si è fatto una cava privata a casa Ritorniamo alla nostra visione Qua c'è Un laghetto Questo non ho idea di cosa sia Se un laghetto così O una cava Di questo Amico qua Quindi troviamo Vediamo un bel fiume Un bel fiume Vedete Con questo visuale Si può trovare Un sacco di cose C'è questo Allora Abbiamo visto Il nostro bel fiume Qui vediamo Che comunque Ha un bel corso Perché ci sono Di bei riflessi Quindi l'acqua scorre Bella Forte Abbiamo anche Un bel passaggio Altra cosa Che serve molto Maps È vedere I cartelli Che ci indicano Che tipo Di Pesca Si può fare Ecco qua Abbiamo trovato Una giornata Bella Fortunella Giornata Fortunella Come vedete Qua è ancora La zona torrentizia Qua abbiamo Una bella cascata Qua ne abbiamo Un'altra Fa ben sperare Come ho detto Prima c'erano i riflessi Perché l'acqua Comunque è abbastanza Mossa Corrente E Come vediamo Qua è tutto liscio Ci sarà qualche cascatina Però qua Qua si divide Qua è un'ottima zona Da cercare Qua è un'ottima zona Da cercare Perché come vedete Qua C'è una asciutta C'è una cascata Qua c'è una buca Come potete vedere Qua c'è un'altra Bella buca Con dei canneti Certo Non sarà facile Da penetrare Questa zona Perché è bella Infitta Però A guardare da qua Sembra quasi da wading Quindi se qualcuno Della zona Se vuole dirmi Anche qua sotto Se si prendono Ho so detto Delle cazzate Molto probabile Perché Non ho idea Nemmeno di dove Sto cercando È Proprio per Fare da zero E qui Comunque vedete Anche le curve Tipo nei fiumi Sono molto importanti Perché si vanno a creare Delle zone Più profonde Come vedete Questa zona qua E delle zone Più basse Le zone più profonde Che portano Perché la corrente Fa questo corso Qui E va a battere qua E scava qua Invece delle zone Di acqua più lenta Dove il pesce Si riposa Dove il pesce Staziona Che sono queste qui Questa zona qui Questa zona qui Che non sono da sottovalutare Qua abbiamo una buca Qua abbiamo una buca Ad esempio Ci spostiamo un po' Per cambiare un po' Ecco Anche Corso Cioè nel senso Cambia Il fiume Vedete qua C'è una bella buca Interessante Dopo una zona Molto secca E qua è ancora Più profonda E qua ci aiuta Molto Su queste cose Che dopo Può essere cambiato Perché Piene Varie Non Modifino Continuamente Il corso Del fiume Però Non Ci sono neanche Molte strade Che ci aiutano In questo caso Perché sono tutte Lontane Tra l'altro Ecco qua Ma che bello Ecco Come dicevo prima Alberi Anche morti Sott'acqua Sono molto importanti Ma che bello Chi è che abita vicino Che mi ospita Che voglio venire A pescare qua Ecco Quest'albero qua Potrebbe essere Molto importante O alberi comunque Che stanno vicino Stanno sulle sponde Che offrono cibo Ai pesci Possono essere Molto importanti Perché Da queste Da questi rami Cadono Vacche Insetti Quello che volete E i pesci Saranno Stazionati Sia qua Che qua Uno perché c'è ombra Due perché c'è cibo Che come vedete Su una giornata Magari Anche un pochino Più calda di questa No luglio Su una giornata calda Come questa E I pesci Vanno a ripararsi Qua sotto l'ombra E dato che da qua Si può lanciare Da qua Fare un bel lancettino Qua sotto È molto probabile Che esca qualcosa Dunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi sono fatto un po' Prendere Anche perché Ci ho passato molto E mi piace analizzare Un po' Gli spot Ci ho preso gusto Diciamo Dunque Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Ragazzi Lasciate like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E dunque direi Che per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti